Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massa Isidro 6 e eccoci qui nella Champions League con il Milan siamo nel secondo video giornaliero per PES il quarto di guerra, PES 2020 scusate oggi siamo contro l'Olympiakos noi col Milan siamo con la nostra formazione, con Daniele Valdini sempre dentro ma direi che la tattica è consuso, tre quarti stava funzionando quindi direi che lo metto dentro e direi di partire così ragazzi perché non voglio permettermi cagate iniziamo l'Olympiakos non ha, credo non abbia 80 non abbia gente con 80 infatti nella formazione ci sono solo 79 nessuno 80 noi invece ce li abbiamo quindi direi di iniziare questa partita vale per il primo posto se la vinciamo sempre se la vinciamo comunque ragazzi spero che questo video vi stiano piacendo comunque nel primo video che ho fatto di ieri contro il contro lo Zenit vi ho detto di lasciare 5 like se volete un altro episodio un'altra Champions League con squadra italiana magari con squadra estere quindi lasciate 5 mi piace su quel video lì ma ora si parte Romagnoli con uno sguardo un po' te ride ride, ride, ride Romagnoli, Piontek, stupidissimo Vukovic Sima Simicas Mohamed Madikamara minchia, Piontek Piontek passaggio un po' impreciso Maldini fa di peggio Simicas Piontek attenzione è partito Ismail Benasser si vede anche Ante Rebic che la passa verso Christophe Ante che tira ovviamente siamo a San Siro raga calcio di punizione per l'Inter non si sa perché Fortunis Valguena però Giuseppino è due Calabria si scontra con Valguena ma non è perdono l'equilibrio Calabria Suso è partito Piontek Daniele Maldini attenzione prende parla passa Suso in un passaggio per Ante Rebic lascia di perdere Suso Madikamara Daniel Bodensi Bruno Gaspar Suso Nei pressi Vukovic Fortunis Suso Nei pressi Valguena attenzione Musacchio eee l'Arabi e l'Arabi Romagnoli attenzione uuu si stava qua con 30-0 il vantaggio dell'Olimpia pass ma per Fortuna ci siamo salvati meno male ragazzi perché è qua comunque ragazzi grazie alla vittoria con lo Zenit vabbè per il pareggio col Benfica abbiamo giocato meglio noi sta un pochino di volta a dormire non del tutto ma sta giocando meglio sempre solo sempre solo ragazzi quindi dovete ringraziarmi io li ringraziami Calabria 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 produzione Calabria cosa 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 c'è cosa fanno per l'Olimpia ma Cristo ma ma muori male pelace sembra attenzione sbaglio franco che si non la prende rimessa laterale Calabria va al passaggio verso Daniele Maldini Maldini cursione sulla faccia attenzione Maldini ma vaffanbro franco che si che si prova il cross per Christophe Piontek su su Daniele Maldini ma non è vero Daniele Maldini adesso parliamo tutti Bruno Gaspar Biliero Bukovic ma finisce qui il primo tempo abbiamo creato un sacco di occasioni per poco Maldini non fa gol scusate per il rotto ragazzi possiamo farcela direi che Maldini ha fatto il suo il suo gioco mettiamo Suso di qua e direi che sia il momento di Akhan Charanoglu ragazzi possiamo vincere Daniele Maldini ha giocato abbastanza bene ma noi lo stituiamo e gli facciamo anche un bel applauso ma è arrivato il tempo di Akhan Charanoglu e Suso già l'attacco nel cursione sulla faccia Balbuena in tre a pressare Balbuena attenzione Simas Simicas e che si madonna dovuta giù pure Calabria no chi è chi è chi è chi è chi è chi è c'è c'è l'anoglu mi fa qualizza su queste cose e poi prende buono c'è l'anoglu su su attenzione subito sui passaggi di c'è l'anoglu appreentrato il primo passaggio di Akhan c'è l'anoglu attenzione intercettato da non sto chi non sto bene Daniel Podence Bruno Gaspar Teo Hernandez fallo non si sa come presa la palla pronta a battere Balbuena io ando a farla barriera lascia passare Musacchio rimesso da fondo per il Milan ancora 0-0 San Siro mi sa che c'è un cambio per l'Originus ah si perché il sessantesimo non si sa come ma il commentatore non si sa come non si sa come Calabria attenzione Suso Suso è partito sembrava non voler prender palla ma Suso Suso per Cristo Pionde Provisata la traversa non ci credo ma fai un colpo di testa normale Christian Bruno Gaspar Ismail Benasser Vukovic attenzione Pionde quasi calda il gol rovesciata e Ronaldo si sposta Pionde attenzione Semedo quello che ha fatto in grande intercettazione una grande intercettazione a Suso Bruno dandogli una sballata a Vegna di quale di Chessi lo lasciano perdere Calabria è partito è partito anche Bionde ma Suso sembrava un best andrebbe Suso ma Suso attenzione quasi la toglie Romagnoli Bionde il pistolero fa 1-0 e ne fa vedere le pistole attenzione l'hanno messa in best le esultanze di Christoph Pionde e meno male 1-0 per il Kilar cioè la tua squadra meno male perché per l'errore di prima sulla rovesciata sulla traversa non era era un po' imperdonabile si è fatto perdurare per un gol Grandi e Christoph Pionde che entrano Lazarus e Kurt Kudris per l'olimpio doppio cambio Semedo Ruben tra l'altro grande colpo di testa di Romagnoli Cialanoglu con un prima Christoph Pionde ancora Pionde per Akhan Cialanoglu Cialanoglu 2-0 rivalutato subito Milan forse non fa così schifo Akhan Cialanoglu tra l'altro maglia fichissima del Milan su grande assist Cialanoglu sembrava non volesse prenderla Cialanoglu invece l'ha presa ma c'è ma c'è 2-0 in poco meno di 5 minuti Bukovic Bukovic Semedo Valgueno Kutris appena entrato 3 minuti di recupero potrebbe fare 3-0 che sì Pionde che attenzione non la prende Cialanoglu niente 3-0 potrebbe essere un 3-1 attenzione attenzione calcio di punizione per l'Olimpia corso subito che si è partito Kutris Musacchio prende la palla mamma mia come De Vitt in Juve Atletico Calabria Calabria la spazza via perché è finita Peppe andiamo a Berlino perché siamo primi in classifica ce l'abbiamo fatta ragazzi io vi ringrazio un sacco per la visione di questo video spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella il terzo è un primo in classifica come vi state vedendo adesso abbiamo ancora in torno contro l'Olimpia se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella ci vediamo nel prossimo video vi diamo a stasitro se è tutto bella ragazzi